bentornati a tutti scusate se non mi faccio vedere ma qua per mettere a fuoco con questo coso è un casino quindi non la sposto l'immagine allora vedete questo vermetto è un vermetto di tuta una larvetta abbiamo fatto il trattamento stamattina e quanto pare non gli piace più stare nella foglia sta andando a trovare la morte qua in giro vedete ha un colore strano normalmente loro non fanno così non camminano sulle foglie giustamente non gli piace più il trattamento ma comunque già è mezzo nero in pratica una brutta fine farà questo brutto monellaccio e niente infatti molti ritroviamo poi sopra le foglie così stecchiti qua nella serra dove hanno fatto un po di danno dove ha fatto un po di danno la tuta ahimè abbiamo trascurato troppo i trattamenti come ho fatto un video in cui ho parlato di questo ma cosa ci possiamo fare ora abbiamo aumentato anche un po la dose dei tannini in polvere se vedete qui vedete quanto polvere c'è lì forse sta mettendo a fuoco miracolo miracolo guardate il fiore si vede qua vedete come questi i bombi come l'hanno ridotto nero quindi i bombi lavorano anche se ci sono i tannini che in molti mi hanno chiesto ma questi tannini non disturbano i bombi quindi che l'imbollinazione dei pomodori quanto pare no questo è il vermetto che sta cercando un posto dove andare a morire niente ci sono riuscito a fare un video mettere a fuoco l'immagine piccola qua della larva miracolo miracolo spero si va bene va bene ragazzi seguite il canale mi raccomando fate i bravi picciotti e stiamo attenti alla tuta perché non perdona non perdona ciao ciao